Incendio auto nella serata di domenica 21 gennaio poco prima delle 19.30 in via Argentera tra Riva Rolo Canavese e Riva Rossa nel territorio di quest'ultimo. Una lanciatema si è incendiata mentre percorreva il tratto stradale. Lanciato all'allarme dopo aver accostato sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bosco Nero e Torino Ostura. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme che hanno letteralmente divorato la vettura.